Io ricordo già Questo male passerà Ma il tempo scorre e continua Tu per favore sorridimi Sono stato sempre qui per te ad attendere Da domani andrò a distruggere il gelo intorno a me Ti verrò a cercare al di là del mio dolore e il mare Ma anche se dovessero passare gli anni Ti vorrei ritrovare qui al mio fianco e so che ti sorriderò Se questo mondo ci ha divisi, vivi ancora dentro me Continueremo, avanti andremo e scoprirò dove sei tu Quindi ascolta bene il vento ed ogni sera urlerò Il tuo nome alle stelle presto ti ritroverò Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale Io sono Cobato e questa era la mia versione dell'opening Della seconda stagione di The Promised Neverland Stagione che ancora devo iniziare La prima l'ho letteralmente divorata Quando uscì, non mi ricordo se l'anno scorso Tipo, non lo so, ci avrò messo due giorni per vederla tutta Perché mi ha intrigato tantissimissimo Tra l'altro questo genere, diciamo escape Quindi dove dei personaggi devono scappare da un luogo E ci sono un sacco di misteri Mi piace ben passire Purtroppo ho sentito molte recensioni negative sulla seconda stagione Perché a quanto pare non sta seguendo il filone narrativo del manga Ma stanno facendo un po' cavoli loro E io mi chiedo perché, perché se c'è un'opera scritta bene Perché devi fare di testa tua Ed è per questo che a fa contare da me sta Il mio anime preferito Poi basta Io se non ce lo inserisco in ogni video Non sono contenta Perché comunque The Brom is Neverland Per chi non lo sapesse Insomma, la drama appunto gira intorno a questo gruppo di ragazzini Che vi avevano detto questo rifanotopio Che però a seguito di alcune cose che scoprono Devono scappare Però non riescono Perché c'è comunque tutto un muro intorno a questo posto Ragazzi, ma che cosa vi ricorda? Le mura che sono alte Non ci si può arrampicare Insomma, mi ricorda Comunque, la è stata ormai una palese Detto ciò Detto ciò Questa appunto era la mia versione Spero che vi sia piaciuta È stato un pezzo abbastanza impegnativo Ho voluto omaggiare più o meno i personaggi Con camicia e scritta nel numero questo di Emma Sul coro Lo sapete dei miei personaggi proprii da Norman Detto ciò Io vi aspetto di nuovo qui con la prossima opening in italiano Ma non solo Perché vi porterò altri contenuti E soprattutto potremo chiacchierare un po' Potremo conoscerci meglio Dopo tanti anni E alla mia veneranda età Mi sono divisa effettivamente a parlare Cioè a fare qualche vlog Qualche video un po' più I personale Sui miei gusti Sulle mie abitudini Eccetera eccetera Spero che lo accoglierete O che mi accoglierete Con entusiasmo L'entusiasmo che mi avete mostrato ultimamente Da quando sono tornata attiva su Youtube E niente Io adesso vi saluto Ci vediamo al prossimo video Ciao